per l'impiego della provincia di pavia vediamo gli annunci di questa settimana partendo come sempre dal centro per l'impiego di pavia che si trova in piazza ercole marelli 9b 11 14 telefono 0382 59 7800 la mail pavia è formalavoro.pv.it partiamo da un operatore fonico presso il tribunale luogo di lavoro a pavia un contabile segno raccura carpignano tre addetti alle pulizie ed istituti collegi universitari a pavia un receptionista turnante diurno e notturno a cava manara un operaio generico attività di montaggio a cura carpignano tre addetti alla manutenzione delle aree verdi a pavia due addetti assemblaggio meccanico specializzati a villanova d'ardenghi un assistente all'infanzia per asilo unido a zerbolo due sbavatori a cura carpignano dieci psicoterapeuti di supporto a pavia un impiegato amministrativo a pavia un educatore professionale tutor di sostegno a pavia un responsabile inserimenti lavorativi a pavia un addetto smontaggio rimontaggio macchinari zecchone un impiegato addetto alla contabilità san martino sicomario un aiuto fabbro apprendista cura carpignano due elettricisti a pavia due addetti addette alla ristorazione san martino sicomario 12 addetti al magazzino landriano due addetti pulizia uffici e condomini a pavia tra addetti la caffetteria sala preparazione pasti a pavia un tecnico installatore di elettrodomestici a pavia un progettista venditore articoli di arredamento a milano un elettricista manutentore a pavia un cucitore cucitrice a macchina giussago un manovale edile inverno a monte leone un tirocinante aiuto magazzino pavia un magazziniere pavia un gommista meccanico san martino sicomario un tornitore addetto alle macchine cnc a coppiano manovale per segnaletica stradale a linarolo un commesso commessa per bar pasticceria a pavia un addetto alle pulizie in hotel cava manara un addetto alle buste paga pavia due apprendisti operai operaie a caseificio a cava manara un educatore educatrice professionale a pavia due manovali edile a pavia un montatore meccanico a pavia un geometra di cantiere vidigulfo 12 animatori baristi attrezisti a battuta un operaio addetto alle pulizie industriali a cura carpignano un meccanico riparatore d'autoveicoli san martino sicomario un manutentore elettromeccanico a pavia 35 conducenti di autobus a pavia passiamo agli annunci del centro per l'impiego di voghera si trova in via del popolo 42 telefono 0383 644 527 la mail voghera et formalavoro punto pv punto it cercasi due aiuto commesse a montebello della battaglia un impiegato amministrativo contabile a voghera un operaio addetto ai servizi di igiene pulizia a san cipriano po 5 vendemmiatori a morni colosana una detta al confezionamento a voghera un montatore di mobili voghera un operario metalmeccanico voghera un cassiere voghera un aiuto cuoco voghera una detta alla contabilità a casteggio sei vendemmiatori a montu beccaria dieci agenti assicurativi a voghera due operatori di stampa grafica santa giuletta un grafico pubblicitario santa giuletta due manutentori meccanici a tortona un ossa ponte nizza un operaio qualificato per montaggio mobili stradella due addetti al facchinaggio voghera sei vendemmiatori oliva gessi un tirocinante impiegato addetto amministrativo a voghera quattro infermieri professionali a cigognola cinque asa a cigognola un magazziniere a broni un addetto addetto alle pulizie a stradella due perai idraulici a voghera un saldatore tubista casteggio un carpentiere tubista casteggio un tirocinante addetto alla contabilità a broni un operaio addetto alle pulizie una spazzatrice a caseggerola un architetto redattore di interni a stradella un autista patente di averretto un impiegato impiegato contabile averretto un manovale edile averretto due scalatoristi averretto un broker assicurativo a voghera un trattorista a broni un autista camion a broni un operaio addetto alla tranceria a caseggerola un addetto alle pulizie a stradella un cameriere di sala godiasco salice terme un elettricista voghera un manovale metameccanico voghera un saldatore a tig mig a tortona un elettromeccanico tortona due saldatori manufatti in ferro a rivanazzano terme un addetto al taglio confezionamento sparmatura torricella versate un presatore macchine cnc a cigognola un addetto attrezzaggio macchina a cigognola adesso gli annunci del centro per l'impiego di vigevano in via boldrini 1 telefono 0381 70 290 mail vigevano et formalavoro.pv.it due autisti di auto articolato agropello cairoli un cameriere di bar a vigevano un trattorista agricolo valle lomellina un addetto vigilanza controllo accessi a ferrera il bonione un addetto manutenzione stampi a gropello cairoli un operario mulettista a gropello cairoli un capoturno a gropello cairoli un operaio addetto alla campionatura a gropello cairoli un impiegato programmatore di produzione gropello cairoli un impiegato contabile a gropello cairoli un impiegato ufficio commerciale gropello cairoli otto operaie edili generici a lomello otto operai qualificati lavorazioni edili a lomello un tirocinante installatore a vigevano un manutentore installatore impianti termici a Vigevano, un aiuto cuoco Fiorera e Bognone, un addetto alla segreteria a Vigevano, un tornitore a Vigevano, un montatore e fresatore a Vigevano, due operai addetti alla sfarmatura tessuti a Gambolò, un apprendista parrucchiera a Mortara, due addetti zincatura a Mortara, un addetto pulitura scarpe a Vigevano, un addetto al confezionamento di cosmetici a Vigevano, un operatore impianti chimici complessi, mezzanabigli, un tornitore CNC a Vigevano, un programmatore elettrico elettronico a Vigevano, un fresatore CNC a Vigevano, un montatore meccanico a Vigevano, un magazziniere tirocinante a Vigevano, un impiegato ufficio tecnico a Cilavegna, un tirocinante impiegato a Cilavegna, un lavapiatti a Gambolò, un escavatorista a Lomelo, un tirocinante idraulico a Vigevano, un operaio animista a Sanazzaro dei Burgondi, un operatore cimiteriale a Vigevano, un manutentore meccanico a Mortara, un montatore meccanico a Gambolò, un fresatore a Gambolò, un estetista a Castello d'Agonia, un fresatore a Confienza, un tornitore a Confienza, un operario d'officina meccanica a Vigevano, un tirocinante geometra a Tromello, un operatore macchine a controllo numerico a Gambolò, un addetto igiene e pulizie industriali a Mortara, un addetto a contabilità a Vigevano, una commessa vendita a Cilavegna, un carellista a Robbio, un tirocinio addetto a detta paghe a Vigevano, un addetto alla manutenzione dell'area verdi a Cilavegna. Le offerte da servizio collocamento disabili questa settimana sono un supervisore esecutivo amministrativo contabile a Pavia, un ingegnere progettista meccanico a Montubeccaria, un elettricista a Vigevano e un ingegnere meccanico a Pavia. Un fisioterapista a Godiasco, un infermiere professionale a Godiasco. Questi gli annunci della settimana del Forma Lavoro a cura dei centri per l'impiego della provincia di Pavia. Grazie come sempre per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Forma Lavoro. Grazie a tutti.